Musica Infatti, tornando all'evento, San Patrignano, perché San Patrignano? Mi ha colpito molto questa vostra scelta, mi ha toccato anche dentro, perché San Patrignano? Per confermare il motivo che ti ho detto prima, cioè il Networking Day nasce con la volontà di portare degli esempi e delle testimoniali. San Patrignano è il posto migliore che io conosca per dare alle persone degli esempi, perché quando tu fai un corso, quando tu fai un seminario, quando tu fai la ricerca di qualsiasi strumento nuovo, lo fai perché in qualche maniera capisci che devi migliorare, crescere e progredire e vai alla ricerca di strumenti nuovi. La vera difficoltà è il passaggio mentale nell'accettare questi strumenti nuovi, nel metterti veramente in discussione, nel ricominciare, nel tornare bambino. Ecco, San Patrignano è la prova provata che 1200 persone che vengono da una fase di vita in cui il risultato che hanno avuto non è stato quello che volevano, sono in grado di ripartire ricominciando da zero, resettando, partendo dall'impegno, dal lavoro, dalle regole, dal sacrificio, dal servizio, dal concetto di gruppo, di squadra, di comunità, dall'esempio di quello che c'è già passato. Quindi è la metafora perfetta per chiunque voglia migliorarsi nella vita. Io dico sempre che la maggior parte delle persone viene ai nostri incontri, in questo caso viene perché c'è Montali, viene perché può incontrare Sghedoni che racconta una storia bellissima, viene perché può incontrare Saturnino. Torna a casa perché ha incontrato Pasquale, Paola, Lucia, che in quella mezz'ora in cui gli racconta la propria vita, in realtà ti permette di tornare a casa con la luce negli occhi e sapere che si può sempre ricominciare, si può fare, si può iniziare e che ogni giorno può essere il primo giorno della tua nuova vita. Ascoltando le storie di questi partecipanti dell'evento, sono onorato di essere lì da qualche settimana, di intervistare i professionisti e gli ospiti che ci saranno. E invito anche chi ci ascolta ad andare a visitare il sito, mi ricordo avete... Sì, www.evolutionforum.it Fantastico. Networking Day del 22 novembre. Gianluca, io ti ringrazio per questa testimonianza che hai dato, per me è stata una grande felicità incontrarti, intervistarti e divulgare questa intervista e la tua storia, le conoscenze e questo evento principalmente. Mi fa molto piacere che hai accettato e sono molto felice nel condividere questa intervista. Ci hai ascoltato anche tu, vuol dire l'ultima cosa? Sì, voglio ringraziare te, voglio ringraziare voi che ci avete ascoltato e se vi va e se ci sarete vi garantisco che sarà un'esperienza più unica che rara. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio, se ti è piaciuta questa intervista ti invito a condividerla con chi pensi che sia interessato. Un abbraccio e alla prossima. Ciao da Lorenzo Olivieri e Gianluca Spadone. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.